Essendo io un Tuareg della psichiatria, nel senso che ho fatto più di 3.000 conferenze nella mia vita, ormai non le conto neanche più, ma 3.000 le ho contate, ci vuole coraggio per continuare a farlo, però credo che sia utile, credo che sia indispensabile, meglio dire, in questo momento storico, perché mi pare che pensiamo sempre di meno, riflettiamo sempre di meno, ci scambiamo battutine sui social e invece abbiamo bisogno di una visione, abbiamo bisogno oggi più che mai di immaginare che cosa può succedere tra 5-10 anni. Questo periodo è un periodo che sarà ricordato come uno dei più grandi capovolgimenti della storia dell'uomo, ma non perché le due coree si danno la mano, che è sempre una bella cosa, della pace, ma perché i robot stanno sostituendo l'uomo in tutte le nostre attività. L'intelligenza artificiale non si sa bene dove andrà, ma so che l'intelligenza artificiale non ha dubbi e so anche che il dubbio è una parte dell'intelligenza dell'uomo, se togliamo i dubbi agli uomini diventiamo tutti più veloci ma anche più stupidi e questo mi preoccupa, a me preoccupa, non so a voi. Io nel mio condominio a Roma ci sono due ragazzi, forse una trentina d'anni, in realtà non so se sono due perché una non l'ho mai vista e uno lo vedo solo perché porta fuori il cane. Io infatti gli ho consigliato di mettere un tapirulà per il cane in modo che non esce neanche per portare fuori il cane. Mangiano solo con pranzi e cene portati da un ragazzo in bicicletta. C'è una famosa azienda che non nomina per non fare pubblicità, che porta a... non si sa bene quale cibo ma loro va bene così, non escono, lavorano da casa. Questo in Giappone è un fenomeno già molto diffuso, uomini e donne, ragazzi e ragazze che non escono, sono tutto lì. E c'è una parte del mondo, dell'economia che spinge verso questo. Amazon oggi, in questo istante, consegna un'ora dall'ordine con un drone a New York. Quindi tra un anno, un anno e mezzo arriverà a Foligno. L'importante è che abbiate un terrazzino, mi raccomando. I garage non servono più ma i terrazzini sì. Ma quindi ti arriva la cena col drone, ti scarichi un film con Netflix, chiacchiere con una chat. E noi? Che fine facciamo? Il coraggio, il coraggio di questa bellezza, il coraggio... L'altro giorno sono stato a Sansepolcro, per fortuna che pioveva come diluvio universale, così non c'era proprio nessuno. Sono andato a vedermi Piero, restaurato, che è una magnificenza spettacolare, direi erotica quasi. C'è un rosa, c'è un... del manto, c'è un verde che è venuto fuori dai restauri, del cappello dei soldati. C'è un osare, un osare con una gentilezza, con una capacità penetrante, straordinaria. Ecco, questo è stato il meglio che noi abbiamo fatto. Cioè noi siamo, attraverso di lui, siamo riusciti a capire che cosa vuol dire essere stupefatti. essere stupefatti. E adesso con cosa ci stupefacciamo? Beh, non facciamo battutoni perché sarebbero facili. Abbiamo riempito le città negli ultimi mesi di negozietti dove si vende qualsiasi cosa base di cannabis. Le crostatine col cannabis, lo spinello col cannabis, la tisana col cannabis, il tiramisù col cannabis, che poi è una contraddizione di senso perché la cannabis tira giù, quindi vuol dire che stai a metà. Se fai un tiramisù col cannabis sei fermo, sei meno. quando lo chiedo ai ragazzi perché vi strafate di canne, loro mi hanno detto perché siamo stressati. Stressati. I ragazzi. Adesso, nel 2018. Il mio nonno che doveva dire? C'erano i bombardamenti, c'erano i massacri. Per non prendere una tessera del fascismo rischiavi la vita. E questi sono stressati. Giazzano su un divano in attesa dell'after hour. Si riempiono di canne perché questo dà loro molta nervosismo. Forse siamo noi di lì, nervosiamo, non lo so. Siamo noi la fonte ultima di stress. Una generazione che è cresciuta con tutto e che quindi non conosce il desiderio e quindi non può conoscere le passioni. E questo è il risultato che a Cupertino California va benissimo. Perché ci fanno miliardi di dollari togliendo desiderio e passione. Perché danno loro quello che vogliono loro. Quando uno è sedato accetta tutto. Ma gli va bene tutto. Se sei attivo è diverso. Una volta dopo un incontro con i ragazzi a Brescia, scuola media e superiore, alla fine dell'incontro io do molto di tutto quello che ho, sudo sette camicie. Arrivano tre insegnanti. Una faccia molto triste. Tutte e tre. La prima mi dice lei era un mito per noi. Dico signora mi dispiace averla delusa questa mattina. In che cosa ho sbagliato? Parla l'altra. Dice lei ce li ha eccitati. Dico il mio mestiere. Io sono qua per eccitarli. Voi andate a scuola con gli intavori. Come li volete i ragazzi? Eh? Rimbecilliti? No, io li voglio eccitati. Nella terza dice, parla bene lei. Lei ce li eccita, poi tocca a noi. E dico sì. questa è la scuola. È la scuola. Non è la scuola del condono emotivo. È la scuola dove si imparano le emozioni. Dove ci si confronta, dove si lotta, dove si discute. No? Dove si fa anche a cazzotti, ma perché no? Una mamma mi ha fatto vedere, perché adesso ci sono delle cose che sono veramente perverse, io credo. Una di queste è il gruppo di Whatsapp genitori. È una cosa che… Cioè, abbiamo fatto l'opposto di quello che si deve fare. No? Cioè, quando un genitore mi dice, guardi che io non ho fatto mai mancare niente a mio figlio, esprime la sua totale idiozia. Perché il compito di un genitore è far mancare qualcosa. Perché se non ti manca niente, che ti serve la curiosità, che ti serve l'ingegno, che ti serve il talento, che ti serve tutto quello che abbiamo in questa scatola magica. Non ti serve niente, no? Se sei stato servito e riverito, eh, come un piccolo lord rimposto, becillito, in un divano, in tutto e per tutto. Ti hanno svegliato alle sette meno un quarto della mattina, ti hanno portato a scuola, ti hanno riportato a casa, ti hanno fatto vedere immancabilmente Maria De Filippi, perché non è possibile perdersi una puntata di Uomini e Donne, perché sapete che è una cosa pedagogicamente brillantissima. E noi l'abbiamo messa volutamente alle due e mezza, cioè il ritorno dei nostri figli, così si cuccano con la bella cultura lì, no? Con le donne, con le labbra a canotto, no? Gli evergreen dei 67 anni che arrivano con l'Harley Davidson, sta robetta qua, che è molto avanti. E quando siamo contenti di avergli fatto vedere quella specie di mercato di ultima qualità dei sentimenti, delle relazioni, dove non c'è un ingegno neanche se lo cerchi con l'omicino. E poi continueranno la loro giornatina, gli faremo anche ripassini e poi si va a scuola a fare i sindacalisti dei figli. Ma una cosa di buon senso, una, il coraggio di dire di no, il coraggio di bocciare. Io ho sfiorato mille volte la bocciatura finale, ci sono riuscito una volta a essere, mi ricordo un anno, c'era, si rimandava a settembre all'epoca. Mi fui chiamato dai professori e mi dissero tre te le diamo noi, una quarta te la scegli te di materia. Perché tre era troppo poco. Io mi sono sentito così, interessante, ero diventato un caso clinico della scuola. Una volta riuscì a prendere anche uno in matematica. Vedete, io me ne ricordo cinquant'anni dopo l'uno in matematica. E non mi ricordo le centinaia di volte che mi hanno dato sei. Perché il sei non dice niente, è sciapo, è mediocre. L'uno fantasma, me lo disse mio padre quando tornai a casa. Papà ho preso una in matematica. Lui pensavo che avrebbe scatenato gli inferi, non so io che cosa sarebbe successo a casa mia. Invece lui mi disse fantastico. Quattro lo prendono in tanti. E invece uno non l'avevo mai sentito. E quindi c'hai un talento, figliolo. E poi passava dall'ironia alla parte più seria che era quella di dire c'hai tempo fino a giugno a tirarlo su. Se no per te sarà una gran brutta estate. Fine. Più parlato. Perché lui credeva in me. E quando credi in un ragazzo non lo devi aiutare. Se è bravo ce la fa. Perché lo dobbiamo aiutare? Io aiuto una signora di 94 anni a attraversare la strada. Ti mancherebbe altro. La metto sotto braccio, facciamo dall'altra parte. Perché devo aiutare uno di 18? Io al massimo gli posso dire sei connesso? Perché questo è fondamentale. Sei connesso. Bene. Questa è una strada. Ciao. Non ti auguri per la tua vita. Si raccomandano le persone in difficoltà, non i figli. Perché devi raccomandare un figlio? Perché non ce la fa? Da solo? Senza la nostra telefonatina? Che messaggio diamo? Eh? Siccome tu non ce la fai, per fortuna ci pensa papà. E infatti ogni tanto anche in italiano ci sono delle cose che sono veramente terrificanti. Io tante volte ho sentito dire da un genitore io devo sistemare mio figlio. Sistemare. Ragionate. Sistemare. Come un vaso cinese o una bottiglia di rosolio. Dove lo sistemi? Dentro la vetrinetta? Sopra l'armadio? hai messo al mondo che cosa? Un oggetto? O hai messo al mondo un'anima? E se hai messo al mondo un'anima non la devi sistemare. L'anima va dove sa andare. Noi dovremmo fare un altro mestiere che è quello degli sovraintendenti, dei capitani, capitano, mio capitano, il più grande film sull'educazione che sia mai stato fatto. Ma il capitano non chiede permesso, il capitano non è democratico per niente. Educare non ha nulla a che fare con la democrazia. Dobbiamo comandare noi perché loro sono più piccoli e noi dobbiamo comandare. Perché avete mai visto in uno stagno un'anitra con gli anatroccoli dove stanno? Dietro. Avete mai visto un'anitra con tutti gli anatroccoli davanti? È impossibile. È contro natura. Perché le anatre sono intelligenti. Noi meno. Noi meno. perché noi li mettiamo davanti. Eh? Andiamo avanti. È mica mica dura solo l'infanzia, l'adolescenza. No, andiamo avanti. Magari ci sarà qualche signore di mezza età che ha la mamma di 84 anni a cui ha telefonato prima. Dice dove vai? Vado a sentire crepè. Beh, hai messo la maglietta perché è un bravo ragioniere, ha 50 anni però ancora non lo vedo così maturo. Eh? Ha bisogno ancora di me, poverino. Beh, io penso che sia meglio essere orfani che avere dei genitori così. Un genitore è un istruttore di volo, deve insegnarti a volare. Non è un ricattatore. Non è uno che spera che tu rimanga in casa fino a 60 anni così diventi finalmente una specie di badante gratis degli anziani, genitori. Questo è egoismo. C'entra niente con l'amore. L'amore è vederli volare, andare a fare qualcosa. Telefonato dall'italiano medio al figlio in Erasmus. Prima domanda. Fa freddo? Erasmus si svolge solo in paesi artici, come voi sapete. Quindi è molto giusto chiedere se fa freddo, perché qua non fa mai freddo. Seconda domanda fondamentale. Cosa hai mangiato? Ma perché siete così? perché siete così cattivi? Già ne facciamo pochi di figli. E quei pochi li distruggiamo? Perché non parli con tuo figlio di felicità? Perché non chiedi, stai godendo come un riccio? Perché bisogna godere nella vita. Non è mica una roba brutta godere. Vuol dire che c'hai un'idea, c'hai una fantasia, c'hai un sogno e ci stai correndo dietro. E se il tuo grande capitano ti dice, vai figliolo vai, che te ne frega del toast? Vogliamo parlare mezz'ora del toast? O vogliamo parlare delle cose belle della vita? Che sono altre, però sono inquietanti. perché poi troppa felicità fa paura, vero? Ci piacciono quelli un po' infelici. Lo diceva anche i longanesi. Vissero infelici perché costava di meno. C'è tanta gente che tutta la vita ha risparmiato pur di essere infelice. Perché abbiamo capito che la felicità, come il coraggio, come le passioni, costano carissime. Sono le cose più care che ci siano. Sono anche le più belle. la passione ti fa fare cose anche sbagliate, logico, ovvio, meravigliosamente giusto. Sono i tuoi straordinari errori, quelli che poi ti insegnano a crescere. Come fai a non fare una cosa sbagliata quando quella cosa sbagliata ti fa diventare matto? Ma come fai? La fai. Chissà qualcosa d'amore sa che sto parlando di cose abbastanza ovvie. Quante volte in amore sai benissimo che quella persona ti manderà al manicomio. Ma non ce la fai a dire di no. Ci caschi dentro quella magia perché è giusto cascarci. Perché a 96 anni te la ricorderai, quel meraviglioso naufragio. E non ti ricorderai tanti anni passati da sei meno o meno, annoiati, tutti uguali, sperando che ci sia la partita così non parliamo. Sperando che sarà agosto, passi presto. Vorremmo che dopo Natale non ci fosse Santo Stefano perché sennò si litiga. Quella vita un po' miserabile lì, quella vita che non vogliamo cambiare perché, come diceva Sant'Agostino, che era un extra comunitario, una volta glielo ho detto a Salvini, ho capito lo sconcerto. E non è di Varese, gli ho detto mi spiace, Sant'Agostino non è di Varese, è africano. Ed era anche un genio. E una volta ha scritto una cosa bellissima che riguarda la speranza. Diceva la speranza ha due figli. L'indignazione e il coraggio. L'indignazione è per dire le cose che non ti piacciono. E il coraggio per cambiare le cose che non ti piacciono. Tutte e due assieme, perché sennò diventi il professionista dell'indignazione. Ne abbiamo già troppi. Quelli che si alzano tutte le mattine, ce l'hanno con qualcuno nel mondo, i cinesi, la Merkel, i governi che non sono governi, ce la prendi sempre con gli altri. Guarda in faccia quello che non ti piace. Comincia a dire ciò che non ti piace e comincia a cambiare quello che non ti piace. Ma voi pensate che questo sia semplice? Voi pensate che a noi hanno insegnato a cambiare, no? A noi hanno insegnato il contrario. Hanno insegnato a star fermi. Marco Polo è stato un'eccezione. Gli altri andavano da Venezia a Chioggia, Chioggia, Venezia, Venezia, Chioggia, Chioggia, Venezia. Marco è andato oltre. Ma noi dobbiamo prendere appunti dai grandi, non dai mediocri. Non dobbiamo copiare i mediocri. Se volete imparare a giocare a tennis non dovete giocare con i raccattapalle. Dovete giocare con quelli bravi. Perdi, sicuro. Impari, tanto. Funziona così la vita. E allora se c'è uno che intraprende, io quando vado a parlare con gli imprenditori chiedo sempre, quanti sono di voi gli intraprenditori? Pochissimi. Da quando abbiamo preso i soldi? Da quando mangiamo a pranzo e a cena? Ci sono scivolate via le idee migliori. Quando chiedo ai ragazzi cosa ci vuole per andare bene nella vita, sapete cosa mi rispondono? Tre cose. È successo qualcosa? Posso andare? No, perché io non ho mai niente di scritto, quindi controllo tutto quello che fate. Tre cose sono necessarie. I soldi. le raccomandazioni e la fortuna. Siete sicuri che sia così? Io no. Io non ho mai conosciuto uno che ha fatto grandi cose, che fosse nato ricco, che fosse stato raccomandato e che fosse stato fortunato. Mai. E sì che di persone brave ne ho conosciute molte. Nessuno. Perché non è così. Non è così. È un suggeritore malefico. Guarda caso suggerisce i nostri figli. Allora nel frattempo c'è una Ford Empoli Calabria che è stata bruciata. 838 CS. Non so che dobbiamo spostarla. Blocca la mia macchina che la devono portare via col caro Trezzi. Vi prego. Please. Una sera tazza. A Roma si dice muovete. Non ho capito. Che è successo? non sento. La devo ridire. Ford EC838 CS. Non vedo che si alza nessuno quindi sono preoccupatissimo. mamma mia. Allora. No io non credo che funzioni così. Non è vero che i soldi fanno venire le idee. Mi dispiace. È il contrario. Sono le idee che fanno venire i soldi. Quando c'hai santi soldi e hai molte meno idee. Quando hai pochi soldi ti vengono di quelle idee pazzesche. Sarà un caso che tutto la tecnologia digitale è tutta nata dentro dei garage. Piccoli garage. Microscopici garage in giro per l'America. Bill Gates ce n'aveva uno. Quello della Apple ce n'aveva nato. Tutti avevano un garaggino. È nato tutto lì. Miliardari. Ma va là. Raccomandati. Ma da chi? Fortuna. Steve Jobs. Fortunato. Fortunato di essere stato abbandonato da bambino. Adottato da una famiglia. Che arrivava a Sieno al 27 del mese. Fortuna. Anche quella se invece qualche cosa che nasce dalla voglia di rivincita contro un mondo che non ti ha regalato niente. Perché ti ha fatto capire che tutto quello che avrai te lo devi conquistare. Perché non esistono i vassoi d'argento per la vita. Quella è solo sopravvivenza. Arrivano. Ti servono. Ti girano anche lo zucchero dentro la tazzina. Con un patto. Un patto faustiano. L'importante è che tu non pensi. L'importante è che tu non critichi. L'importante è che non ti inventi qualcosa. Stai fermo. Tu sei un compratore. Tu devi solo comprare. E basta. E noi ti diamo tutto quello che tu vuoi. Non avere un'idea in più. E se invece la vita fosse dall'altra parte. Fosse quella che tu pensi da ragazzino, a volte da bambino. se la vita fosse questo slancio straordinario. Una ventina di giorni fa ero a Senigallia. Bella serata. Teatrone pieno. E la mattina i ragazzi. 500 ragazzi. Scuole medie superiori. Bella mattina piena di... Poi a un certo punto sta finendo. Vedo che c'è un po' di brusio. I ragazzi cominciano a prendere gli zaini. Mi dicono che il tempo sta finendo. Avevamo già fatto un po' di domande. Forse... Forse la mattina poteva anche finire là. Invece non è finita lì. Si alza in alto a destra. Me lo ricordo ancora. Un ragazzo... Allampanato alto. Biondo. Rasta. Mi fa... Le dispiace se le faccio l'ultima domanda. Dico no, non mi dispiace. Posso essere diretto? Devi. Posso esprimermi liberamente? Certo. Ma lei che cazzo glielo fa fare di venire fino a qua? Bella domanda. Molto intelligente. Sapete come abbiamo reagito noi adulti? Quello ragazzo lì è stato chiamato dal preside. Perché aveva detto una cosa intelligente. Però c'era quella parolina che non andava. Perché avrebbe detto Che caspiterina te l'ha fatto. Bene. Guarda il senso, no? Guarda, eh? Alla luna, non guardare al dito. Perché un ragazzo ti dice questo? È una cosa interessantissima. Ti dice lei è una persona nota, famosa. Sì, è vero. Guadagna, certo. C'ha tante cose da fare. È verissimo. Perché viene finata a me? Chi sono io per lei? Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, a loro, non gli diamo niente. Gli diamo un telefonino, un iPad. Non gli diamo la vita. La nostra vita. Il racconto della nostra vita. Di quel che abbiamo fatto. Delle cose per cui abbiamo lottato. Delle volte che hai perduto, sei caduto, ti sei rialzato. Perché le cadute sono importanti perché poi ti rialzi. Non hanno lezioni di passione. Hanno lezioni burocratiche. Che finiscono lì. E invece i ragazzi hanno bisogno. Perché la vita è fatta di due parti. Il primo tempo è il tempo dell'assorbire. Del respirare la vita degli altri. È il tempo della spugna. Deve avere i pori della pelle allargati. Perché devi fare tante domande. Io lo dico sempre ai ragazzi. Fate tante domande. Perché quella è cultura. Più domande fate. Più imparerete. Perché la vita degli altri è stupefacente. E scoprirete che la vita di un posteggiatore abusivo, di un premio nobile, sono entrambe molto interessanti. Molto interessanti. Ecco che cosa ci manca. Ci manca tutto questo. Ci manca la voglia di essere nel secondo tempo. Io lo sono già da molto tempo. Il secondo tempo è quello di ridare ciò che ti è stato dato. E di ridarlo forse al meglio. E forse anche qualcosina di più. Perché la vita è un business che deve finire in rosso. Devi dare di più di quello che hai preso. E allora hai vissuto bene. E allora non hai fatto conti. Calcoli. Non sei stato un opportunista. Non sei stato un egocentrico. Hai pensato anche agli altri. Perché quel ragazzo diceva io ho bisogno di bere e mi devi dare acqua. acqua. O no? O quel che ci hanno gli deve pur bastare. Ecco che cos'è il coraggio. Il coraggio di immaginare. Di immaginare una vita piena. Che include anche il dolore. Quando scrivevo quel libro sono incappato in una frase straordinaria di Napoleone Bonaparte. Che diceva il coraggio è quello delle tre del mattino. Ma quando ho letto questa cosa ha detto che vuol dire il coraggio è quello delle tre del mattino. Il coraggio delle tre del mattino. E poi ho capito. Ma certo. È logico. Perché mi è capitato migliaia di volte. Che cos'è? Cosa sono le tre del mattino? È l'ora peggiore. È l'ora in cui sei solo. L'ora in cui devi fare i conti con la tua vita. E soprattutto i conti quelli che non tornano. È l'ora in cui ti senti angosciato. Pensi che non ce la fai. Pensi che quel problema è troppo grande. Che non si risolverà. Sei solo. È inutile svegliare nessuno. Sei solo. È l'eco del tuo dolore. E sei lì che ti arrovelli che non sai come uscirne. E poi passa un po' di tempo e comincia a filtrare qualche luce. Arriva l'alba. Senti che in casa si muove qualcuno. ti arriva l'odore della moca. Qualcosa si riprende. Qualcosa torna in vita. e anche i tuoi problemi cominciano a essere più dimensionati. E comincia a dire ma in qualche modo farò. È il coraggio dell'alba. Il coraggio del ricominciare. non dobbiamo dire ai nostri figli che la vita è tutto un sorriso. Ci sono tanti genitori che non hanno mai portato i bambini a un funerale. Perché? Come deve essere la vita? Anestetizzata. Senza troppo ridere. Senza troppo piangere. Una giusta misura. Il nonno muore e il bambino deve saperlo. Perché al funerale del nonno non si parla dell'agonia del nonno. Non si parla del nonno. Si parla di quella pasticceria dove ti portava. Si parla di quella motoguzzi che si era rimessa a posto. La vita spiega la morte. La morte spiega la vita. Funziona così. Ecco perché anche i ragazzi devono cadere. E smettiamola con questi pavimenti antitrauma che abbiamo riempito tutte le scuole italiane materne. Ma abbiamo la sabbia dentro il cervello. Ma che devono fare i bambini rimbalzare? Ma certo che cadono. Bernoccolino terapeutico. ovvio voi non siete mai caduti. Quando uno cade alla bicicletta si graffia un ginocchio. E allora cosa fai? La fotografia la metti su Instagram. fateli cadere i ragazzi impareranno che cos'è il timone. Noi siamo i capitani. Noi non siamo gli amici. Noi siamo quelli che devono guardare oltre. quando chiedevo a Renzo Piano qui lavoro da alcuni anni persona straordinaria come eri da bambino Genova quartiere operaio San Pierdarena condomini condomini alti e alti primi novecento gente che si alza all'alba per andare al porto e tornare a notte. Questo è l'inizio. E poi quando finivi di studiare cosa facevi? Andavi a giocare a pallone. No, no. non giocavo a pallone. Andavi in parrocchia. Mai andato. E quindi? Andavo su. Su dove? In terrazza. Nella terrazza del condominio all'ultimo piano. E cosa ci facevi lassù? Guardavo l'infinito. Logico, no? Come nasce un cacciatore di orizzonti? Guardando l'infinito. E' come si permette a un bambino di diventare cacciatore di orizzonti mettendolo davanti un infinito. Non ha un iPad. Non ha 30 centimetri. Smettetela. Giù le mani dei bambini. Dategli vita. Non soluzioni. Non serviteli. Ce la fanno. Imparate quanto è bello ricominciare, inventarsi. Adesso quegli intelligentoni del Ministero dell'Educazione perché ce ne abbiamo. Io penso che ci sia un casting eccezionale perché mandiamo lì della gente che una volta mi ricordo che avevo chiesto ad un ispettore molto importante come mai si chiudono le scuole a metà giugno lui mi dice ma che domanda mi fa una domanda perché ci sono dei paesi in Europa non si chiude a mezzogiorno a 15 di giugno tipo la Francia per esempio e quando chiudono prima di luglio ah beh ma lì fa freddo perché quando c'hai a che fare con un genio ti intimorisci un po' no? Infatti io gli ho detto guardi io la ringrazio perché adesso capisco tante cose per esempio come mai in Norvegia non chiudono mai le scuole e in Tunisia non le aprono è chiaro no? è ovvio voi pensate che sta gente qui noi l'abbiamo messa al ministero più importante che ci sia perché il ministero dell'istruzione che si dovrebbe chiamare educazione però effettivamente non ce l'abbiamo fatta quindi ci siamo fermati molto prima all'istruzione bene è più importante quello dell'economia no? perché l'economia da chi è fatta? da della gente cresciuta dalla classe dirigente se tu non educhi una classe dirigente c'avrai un'economia pessima questo lo capisce anche un imbecille o no? tre milioni di ragazzi di ragazze che non studiano e non lavorano non vi sembra un problema economico a me sì anche perché stanno benissimo sti tre milioni non è che muoiono di fame dormono sui tiponti no stanno bene non vi preoccupate bevono una quantità di spritz che non avete un'idea e chi paga? noi ovvio no? i furboni papà il nonno con la sua pensione a lei e questo non è un problema economico togliere eh tre milioni di talenti all'Italia non è un problema economico ma pensa a te e qual è il problema economico? il debito pubblico secondo me no secondo me è una quantità di aziende anche qui in Umbria aziende aziendine eh che hanno magari iniziato negli anni sessanta cinquanta sessanta e adesso quella gente è un po' anzianotta sarebbe anche stanca eh vorrebbe lasciare il timone a qualcun altro e poi mi dicono se io lo lascio mio figlio che ha 38 anni tra sei mesi l'azienda non c'è più perché? perché non è capace di fare niente perché? perché non ha fatto niente perché è stato a scuola condonato tutti promossi 99.5% dei ragazzi che fanno l'esame di maturità sono promossi questo è la proprio il fallimento tecnico della scuola e siamo tutti contenti però noi abbiamo bombardato la scuola e ridiamo perché forse qualcuno dice un problema di meno tutti promossi io vorrei conoscere qualcuno che appartiene allo 0,5% io vorrei conoscere un ragazzo una ragazza perché gli vorrei chiedere come hai fatto a farti bocciare perché guarda che in Italia è impossibile ci deve essere un talento straordinario perché uno dice non studia non è vero perché dentro il 99.5% cari signori e cari signore ci stanno gli asini i nulla facenti quelli che che sbagliano tutti i congiuntivi che poi dove vanno in Parlamento e dove che vanno altro giorno ho sentito il presidente della Camera o ne avesse beccato uno di congiuntivo eh io credo che eh ma che scuola hai fatto no dico da dove sei venuto fuori ma è spaventoso cioè noi siamo il paese di Dante non siamo il paese di Cialtroni o no o va bene lo stesso o va bene che siamo tutti uguali questa è un'altra no un'altra bellissima notizia che diamo ai ragazzi no cioè il 99% che cosa vuol dire vuol dire che chi è che ci rimette i migliori no è ovvio perché se uno è bravissimo e studia e gli piace magari passa anche il sabato o la domenica leggersi delle cose invece che andare fuori con gli amici e poi scopre che quello che non ha fatto niente che ha fatto le sei di mattina in discoteca a prendere i stessi voti dopo un po' dirà beh vabbè vado in discoteca anch'io mi faccio un po' di cocaina faccio sesso dentro il gabinetto fanno tutti così va bene così è quello che vogliamo togliamo il merito bene benissimo tutti possono parlare uno uguale a uno ma va ma che bellezza quindi certo un dj può parlare per esempio di vaccini è ovvio no siamo in democrazia e anche un ex showgirl può parlare di vaccini risultato 30.000 bambini non vaccinate siamo tornati alla quota alla quota di morbillo che c'era 40 anni fa siamo contenti anche di quello siamo contenti anche di questo benissimo uno uguale a uno allora visto che qualcuno tanto anche in questa sala lo pensa perché parteciperà a qualche blog Novax alle 11 e tre quarti di notte firmandosi chiocciolina 27 e farà così perché i più i coraggiosi fanno così di solito si firmano carciofone bellissimo poi te ne dicono di tutti i colori si sfogano poracci perché sono dei frustrati ecco allora facciamo così se c'è qualcuno che lo pensa se c'è qualcuno che pensa che questa cosa non sia una bestemmia dopo domani se vai in ospedale e ti devi far operare chiama un DJ fai una cosa simpatica eh anzi consiglio una ex showgirl viene in sala operatoria col tacco 12 eh col bel rossettone eh e dice dove è il figato amore eh questa è la medicina dai eh ma scherziamo non fate quelli sorprese quello che sto dicendo perché noi abbiamo riempito la facoltà di tirana privata 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 return ticket vai a fare l'esamino e torni la sera che la mamma ti ha fatto gli gnocchi perché è porino con tutto quello che ha studiato sto ragazzo no ah sì ma com'è che non sono tutti ad Alderberg no visto che uno deve andare fuori d'Italia perché non vanno ad Alderberg che sarebbe anche la facoltà migliore che c'è perché vai in una che non non capisci neanche dov'è l'esofago e dopo cosa fai dopo certo che devi raccomandarli eh ma per forza non sanno niente chi è che racconta che raccomandiamo i deficienti uno che non sa niente per forza che deve essere raccomandato dove lo metti eh speri nella politica speri che che diventa il primario più votato dell'Umbria e poi voi andate da lui ma siete sicuri io non ne ho mai visto uno eh perché quando stiamo male guarda un po' noi vogliamo la qualità il meglio il meglio che c'è perché quando devi vedere davanti ai tuoi occhi un medico che ti può anche dare una brutta notizia tu devi sapere che quello lì non è bravo di più sì o no e allora continuiamo con sto ceppo io non ce l'ho col ceppo anche perché è di qui non ce l'ho col ceppo perfetto il ceppo io ce l'ho con i genitori che mandano i figli al ceppo e ce l'ho anche con i ragazzi che accettano di andare al ceppo io sono qua perché perché ho dei meriti è evidente voi chiamate chiunque qua avete preso uno che passava per la piazza funziona così no se siete qua dopo un'ora che sto parlando vuol dire che tante fesserie non le dico giusto o voi pensate che io vado dalla Mondadori eh come devo andare tra un mese portare la nuova cosa che ho scritto cosa mi dicono si si dai pubblichiamo questo sai crepezza anità purino facciamogli sto regalino no perché un'azienda fa così vero ti fa i regali ah si e se non li fa e se mi giudica e mi valuta com'è giusto che io sia giudicato e valutato e io non ho paura di essere né giudicato né valutato perché io so quello che sto facendo e lo faccio il meglio che posso poi qualcuno troverà che qualche mia idea è sbagliata mi interessa il giusto non mi interessa il consenso non mi è mai interessato la politica oggi è basata sul consenso terribile vuoi sapere cosa pensa la gente e gli dai da mangiare quel che pensa la gente mamma mia David Bowie mi ricordate David Bowie grande bello rocker in una bellissima intervista quando era ancora sano e il male non l'aveva consumato raccontava della sua vita meravigliosa della sua musica ad un certo punto lui era molto simpatico elegante stava su un divano mi ricordo a un certo punto comincia a dire never play for the audience never play for the audience never play for the audience non bisogna mai suonare per il pubblico fantastico suona per te se poi sei bravo qualcuno ti seguirà pensate ai X Factor poveracci abbiamo preso una cosa l'abbiamo chiamata talent cioè quella sarebbe la fabbrica dei talenti e cosa fai per essere un talento devi cantare una canzone di Milna negli anni 70 ma che siamo scemi ma io non lo so ma perché ma perché Caravaggio faceva le cover ma io non lo so ma proprio c'è sfuggito il cervello è talmente evaporato che non lo troviamo più non c'è più never play for the audience ovvio certo il signor Mitterrand presidente della Francia grande presidente della Francia quando fu eletto gli misero davanti una statistica gli dissero presidente il 65% dei francesi vuole mantenere la pena di morte e lui disse ah sì interessante non me ne frega niente trac trac io sono così io ho una mia storia io non cambio io non cerco consenso io sono il presidente che non mi alleggano mai più ma io lascio le mie idee pensate un politico di oggi cambiano i programmi ogni due ore è una cosa inimmaginabile va bene qualsiasi cosa eh poi ti dicono no che quelli intelligenti cambiano idea sì le bandiere al vento questo è il coraggio il coraggio è quello di mantenere quello che pensi di continuare a fare quello che pensi 1963 primo primo concerto dei Beatles negli Stati Uniti arrivano a New York nessuno li conosce negli Stati Uniti ancora sono abbastanza conosciuti in Inghilterra ma basta lì e gli dicono guardate il manager cercate di fare i ragazzi a modo perché pensano qua che voi siete un po' sovversivi mezzi comunisti quindi mettete una bella giacchetta e la cravata fate i bravi se no non vendiamo un disco e loro vanno dentro questo club a New York pieno di ragazzi e di ragazze non tantissima gente però era pieno cominciano il primo accordo e tutti cominciano perché allora c'era una cosa stupefacente si chiamava gioia la gioia quella cosa virulenta che ti prendeva l'anima eh che avevi voglia di vivere eh la vita vera bene cantano finiscono il concerto John dice ragazzi abbiamo finito le canzoni come no un'altra no abbiamo finito ma un'altra abbiamo finito finito era il repertorio era questo qui però se proprio insistete vi posso dire che prima nel backstage è arrivato un ragazzo un ragazzo americano uno dei vostri con una chitarra dice che che se c'era la possibilità avrebbe cantato con noi cosa dite lo facciamo venire avanti bene ragazzi ragazze Bob Dylan eh e arriva arriva brutto come una cambiale c'è spuglio di rovi nella testa naso dunco voce inascoltabile gracchiante orrenda ballate che duravano dieci minuti undici minuti il peggio che qualsiasi ditta discografica avrebbe mai voluto l'esatto contrario di quello che ci si aspettava in quel momento il melodico il rock niente tutto un'altra roba bene quella notte quel ragazzo canta una canzone che cinquant'anni dopo è stata letta alla serata dei Nobel è stata la canzone simbolo del suo talento non ha mai cambiato una virgola Bob Dylan ha continuato così perché sapeva che doveva continuare così non ha cantato le cover dei melodici non vi piace la mia bocce me ne farò una ragione non vi piacciono le mie ballate amen io vado avanti così quanto tutta la vita e vivo anche parecchio e vi do una notizia io prendo il Nobel voi no eh bella stava qua insegnatela ai ragazzi insegnatela ai ragazzi bisogna disobbedire lo diceva Don Milani bisogna insegnare ai ragazzi a disobbedire a non fare tutto quello che vuole la rete impariamo ci stanno fregando non è vero che abbiamo delle amicizie perché siamo su Facebook per favore non bestemmiamo la parola amicizia è una parola meravigliosa una ragazza a 13 anni si è impiccata vicino a Vicenza era sola col padre sono arrivati i carabinieri hanno cercato dappertutto speravano di trovare un pezzo di carta una spiegazione una lettera non c'era niente qualcuno ha aperto il computer era pieno tutti amici 700 800 amici quali amici eh quali amici l'amicizia è quella o l'amicizia è quella che quando stai male arrivi anche alle 3 di notte io ho imparato la seconda e sono pochi non sono 788 sono due o tre quelli giusti quelli buoni quelli che ti hanno seguito tutta la vita quelli che sono venuti con te a qualche funerale mezzo matrimonio eh quelli sono gli amici e perché qualcuno si prende la briga di prendere quella parola e di volgarizzarla perché come si permettono e ci dicono come vivere no ah no in questo posto in questa bellezza ci dicono cosa dobbiamo fare come dobbiamo vivere da dove da copertino california quando noi avevamo Leonardo da Vinci a copertino california non c'erano neanche gli scorpioni e loro ci stanno insegnando a vivere non credo e allora ecco il coraggio di dire di no di dire che un telefonino si può chiudere di dire che abbiamo passato il limite l'altro giorno ero in un ristorante anche abbastanza così noto ad un certo punto vedo dei flash da una parte ho detto sta a vedere che è arrivata un'attrice una starletta mi sono anche messo a posto la camicia che si sa mai era arrivato un risotto era arrivato un risotto no perché uno non è che fotografo solo il risotto misteriosamente perché uno mi dice ma perché ma voi vendete riso no perché io posso capire uno che ha una risaia ma si e no eh no perché non solo lo fotografi è che lo mandi dei tuoi dei tuoi followers anche questo le parole non mentono followers siamo dei seguaci di chi siamo i seguaci senza predicatore cioè tutti seguono qualcosa e nessuno sa che cosa anche questo è bizzarro secondo me followers siamo tutti tu quanti followers hai 2700 accidenti ma seguono chi non si sa anche perché il pensiero nel frattempo è volato no l'hashtag cioè il pensiero è diventato l'hashtag cioè una mezza parola neanche una parola perché twitter aveva 180 caratteri era già un pensierone perché infatti voi tutti siete ungaretti giusto è logico eh e infatti twitter prende da ungaretti pensando che di ungaretti ce ne siano diversi decine di milioni no tutti in 180 vi danno il senso di quello che volete dire ma non c'è bastato questo perché era troppo complicato no allora facciamo un astag una mezza parolina un acronimo il nostro pensiero è diventato un acronimo noi prendiamo un problema complicato eh l'immigrazione per esempio e lo fai diventare un astag ma chi si permette di fare una cosa del genere a che pro di fare un po' di propaganda per se stesso perché fai ridere perché perché c'hai i followers poi scopri che i followers non ti votano ancora non gli hanno detto ai politici sta roba qua perché loro pensano di prendere c'ho tanti fol quindi non funziona così perché di chi chi di rete ferisce di rete perisce eh e se ne è accorto anche qualcuno recentemente eh e quindi beh forse qualcosina in più un po' di ironia eh smetterla di fotografare il risotto o il cappuccino alle 8 e 5 della mattina al bar l'altro giorno c'era una signora che rideva talmente tanto dico scusi se lei ride così perché lei lo fa vero adesso sì io tutte le mattine fotografo il cappuccino pensate come siamo ridotti eh è un po' di autoironia un po' di dire perché sapete cosa c'è di bello la speranza è legata ad una parola bellissima che si chiama nausea l'uomo conosce la nausea è una cosa straordinaria io l'ho imparato da bambino perché mio papà faceva il medico del lavoro e andava nelle nelle officine nelle fabbriche a vedere come stavano gli operai e una sera ricordo che aveva parlato con mia mamma e gli aveva detto che era andato in una fabbrica del cioccolato e io non ci potevo credere a questa cosa qua e quando mi ha accompagnato a dormire gli ho detto ma davvero papà io ho sentito eh prima tu sei andato in una fabbrica del cioccolato dice sì sono andato in una fabbrica del cioccolato ma non è possibile che ci sia una fabbrica del cioccolato perché gli operai mangeranno tutto il cioccolato come fanno a vederlo dice questo è un problema enorme c'hai ragione succede così quando il padrone della fabbrica del cioccolato vuole assumere degli operai li mette in una grande enorme sala dove ci sono tutti i cioccolati del mondo ed è tutto gratis e possono mangiarli a volontà quanto ne vogliono fin tanto che quando cominciano a vedere il cioccolato vomitano ed è lì che vengono assunti questa bellissima balla di mio padre non potevo sapere che era una bellissima metafora della vita noi dobbiamo arrivare a quella nausea lì c'è poco da fare dobbiamo fare tante fotografie su instagram e poi forse qualcuno comincerà a dire ma cosa sto facendo avremo duemila amici su facebook poi ci sarà qualcuno che dice ma cosa sto facendo eh cominceremo a capire che stiamo facendo delle cose molto pericolose abbiamo smesso di scrivere di leggere di parlare quanto quanto vi capiterà un'altra volta che parliamo così per un'ora e mezza domani sera cena no eh conversare bellissima parola conversare è l'atto con cui i miei vecchi veneti eh andavano tornando a casa del lavoro si fermavano all'osteria conversavano si versavano il vino assieme bello per imprecare contro la loro vita per sperare per ridere per parlare di qualche cosa di molto di molto bello conversare c'era il tempo in cui versavi quel liquido sul bicchiere c'era il tempo per ascoltare un'altra persona c'era il tempo per capire anche ciò che non diceva come si fa oggi a innamorarsi di che cosa una fotografia come facciamo a innamorarci i ragazzi usano whatsapp perché a copertino california hanno pensato di lobotizzarci fino in fondo per cui le tue emozioni diventano una una cosina gialla che si chiama emoticon ci sono delle persone adulte mandano le emoticon la crimuccia non so cosa voglio dire fa il cuore che batte puff 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 tu pensa a un ragazzino che vede la mamma che manda un emoticon dice siamo perduti chi ci salva cioè mia mamma è più immatura di me la nonna è più immatura della mamma c'erano tutti quel cuoricino tutti con la lunetta in su o in giù capito e sapete perché abbiamo fatto tutto questo perché ci siamo innamorati della comodità questo è il problema perché abbiamo tutti un telefonino perché è comodo quando mai è successo che nella storia dell'umanità tutta l'intera umanità amasse un oggetto non è mai successo in tutta la storia dell'umanità ognuno ha amato le proprie cose nemmeno le sedie sono amate dappertutto perché in Africa non le usano però c'è una cosa che amiamo tutti e che tutti abbiamo nella tasca è quella cosa rettangolare perché ce l'abbiamo perché ce l'hanno i cattolici gli ebrei ce l'ha anche l'isis etrosessuali omosessuali indecisi tutti tutti usano quella roba là e perché perché è comodo scarichi tutto è comodo deleghi puoi delegare a questa robetta qua tante funzioni tante funzioni e quindi delegando funzioni cerebrali ad una macchina inevitabilmente succede una cosa non molto simpatica che la nostra macchina la nostra macchina che è come un muscolo esattamente il cervello è come un muscolo se tu non lo utilizzi se tu non lo alleni si atrofizza e se tu non gli dai i compiti si atrofizza e diventi demente non necessariamente a 90 anni puoi diventare demente anche a 18 perché non usi più questa roba qua io per fare una ricerca dovevo andare da tre cani di mio padre era una roba mastodontica adesso tic 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 wikipedia la cultura è diventata wikipedia anch'io ho usato il il coso come si chiamava il il riasuntini come si chiamava il bignamino è successo a tutti però nessuno è andato così fiero dice sai ho fatto un'interrogazione basata sul bignamino cioè lo facevamo ma non lo dicevamo adesso lo fanno tutti e sono contenti cioè prendono dei copy and call di wikipedia che a volte sono anche delle notizie totalmente sbagliate ma chi se ne importa tanto devi mica lì e guardare raffinato no e poi e quando avremo avremo tutto questo il mio amico professore di di estetica all'università di milano mi ha detto che quest'anno ha girato una mail tra i professori con la preghiera di riassumere tutti i volumi superiori e 400 pagine vi rendete conto a che punto stiamo arrivando e sapete perché lo dicono perché non ce la fanno non ce la fanno a leggere 400 pagine io modestamente ho fatto medicina se c'è qualcuno che ha fatto medicina sa che c'erano degli esami da 6.000 6.500 pagine perché ce l'abbiamo fatta eravamo dei geni assolutamente no eravamo allenati anche un signore di 80 anni può fare la maratona basta che sia allenato giusto ma se non è allenato io che non ne ho 80 muoio e se uno non legge 100 pagine al giorno come fa a leggerne 6.000 ma se tu leggi un grighino un hashtag è chiaro che già una pagina è assai è complicata forse non ce la faccio e allora la classe dirigente su che cosa si baserà sul nulla la formazione della classe dirigente dei prossimi anni su che cosa si baserà è chiaro che il consenso diventa più facile no se nessuno sa niente è chiaro che il consenso è facilissimo diventa complicato quando tutti hanno un'idea ma se noi togliamo le idee togliamo il pensiero soprattutto quello critico togliamo la capacità di riprodurre quel pensiero attraverso la scrittura togliamo la possibilità di nutrire quel pensiero non leggiamo più che vince guardate che le guerre sono state fatte da della gente che voleva dei regimi totalitari ma almeno quelli si vedevano avevano delle camicie di un certo colore bandiere di un certo colore le vedevi no? e questi come fai a vederli? sono tutti sotto traccia sono invisibili ecco cosa vuol dire vuol dire che dobbiamo sperare nella nostra nausea non ci sarà una soluzione per tutti io penso che ci sarà una soluzione per qualcuno però la capacità di dire di no la capacità di dire di no questa deve essere preservata questa la dobbiamo insegnare ai ragazzi perché nel 2018 ce n'è bisogno forse ancora di più che 20 o 40 anni fa la capacità di dire di no mi lascio con un mio incontro di una persona molto speciale che ho conosciuto nella mia vita io non ho avuto la fortuna di conoscere persone speciali è che ci sono andato io incontro perché è vero che nella vita passano solo alcuni treni quelli buoni però bisogna andare in situazione non entrano a casa tua devi andare là ecco la cosa scomoda della vita la cosa meravigliosa della vita ecco quanto aveva ragione quello che diceva tutto quello che è comodo è stupido è verissimo tutto quello che è comodo è stupido funziona per la facoltà che se tu scegli quella più vicina è stupida di sicuro perché vuol dire che non vuoi fare nessuno sforzo vuol dire che non hai nessuna abnegazione non hai nessun sogno non c'hai niente vuoi fare un burocrate e funziona così anche in amore se tu ti innamori di quella di sotto al piano è stupida perché in amore lo sappiamo no? vince la paura è bellissima si chiamano pene d'amore anche lì l'italiano ci dà una mano pene avete mai sentito gioie d'amore cacofonico non funziona funziona molto bene pene d'amore perché sappiamo perché quando sei molto innamorato hai paura che quell'amore finisca no? o no? l'innamoramento non è un pret-à-porter è un vestito di Valentino è una cosa meravigliosa è un amore unico irripetibile non può essere quello che arriva alle cinque tutti i giorni con il garofano perché se sei sana di mente gli dici amore mio cambia eh o no prima che moriamo tutte e due una ragazza a Mantua mi dice io c'ho tante paure una ragazza carina si vedeva perché ogni tanto non so mi capita di vedere queste cose dico qua su questa ci scommetto a me piace fare così su questa ci scommetto non so perché non mi chiedete perché ma su questa scommetto a questa mi faccio tante paure eh vabbè dico le tatù eh ma ce n'è uno più grande qual è di innamorarmi no no dice non si preoccupa io mi sono organizzata così mi fa come si è organizzata che mi faccio piacere quelli che non mi piacciono tanto appena vedo che c'è uno che mi fa perdere la testa scappo via chi è quel mascalzone maledetto che ha insegnato questo è un figlio che le emozioni sono cose sabbie mobili ma state scherzando ma è il senso della vita è il sale della vita le emozioni perdere la testa è una cosa meravigliosa ma perché la testa deve stare sempre ferma è bello perdere la testa mamma mia l'hanno fatto tutti i grandi tutti i grandi hanno perso la testa e se no non sarebbero diventati grandi scusate o no perché Michelangelo non aveva perso la testa quando ha voluto staccare quel pezzo di marmo alto 18 metri tutto intero e gli hanno detto tagliamo la Rocchi dicevano gli operai alle Appuane e lui disse ma scherzi l'hanno fatto i romani lo faccio anch'io no e si stacca è certo che si stacca e muore un operaio si ferisce lui pensate che abnegazione poteva farla facile tutto quello che è comodo e stupido e tutto quello che è scomodo è molto intelligente e rimane nella storia ecco cosa dobbiamo fare bellissimo e dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che la passione è il motore della vita a Parma un ragazzo mi ha chiesto che cos'è la passione e dico guarda la passione è una cosa difficile da descrivere così è un vento che ti travolgerà quando meno te l'aspetti ti farà girare e rigirare tra le lenzuola mille volte una notte finalmente non ne potrai più e andrai alle 5 del mattino alla stazione per prendere il primo treno che ti porta da lei questo mi guarda mi fa perché alle 5 del mattino perché la passione secondo i social sarebbe così ti mando un whatsappino amore se tu fossi qua tu non hai idea cosa ti succederebbe però attualmente sono un po' stanchino ciao e poi se tua mamma ti sveglia se tua mamma ti fa perché ti deve fare il breakfast se tuo papà ti porta in stazione perché vuoi andare da stazione per dei pericoli che dobbiamo evitare i nostri figli ti raggiungeremo e ti raggiungeremo faremo un bellissimo after hour questa è la passione e questa sposta le montagne siete sicuri questa sposta le montagne perché noi abbiamo bisogno di passioni che spostano le montagne eh l'integrità la curiosità la voglia bene finisco con questa cosa Germano Facetti Germano Facetti è stato il più grande graphic designer del novecento probabilmente quello che ha inventato la nuova rivoluzione dei cosiddetti pocket art director della Penguins Book per alcuni decenni una vita non iniziata in maniera particolarmente facile sedici anni lui e un amico sentono delle cose perché l'amico ha un papà inglese sentiva Radio Londra siamo nel 1943 sentono delle frasi pensano bene di scriverlo su dei pezzi di carta pensano bene di andare in centro a Milano attaccarlo alle pareti e il coprifoco arrivano a pattuglia li prendono e portano a San Vittore li riempiono di botte e due giorni dopo treno Auschwitz e scusate Mauthausen tutta questa storia me la sono fatta raccontare e l'ho scritto è un uomo straordinario io l'ho conosciuto quando ero ritornato in Italia ormai anziano ancora lucidissimo straordinario lui e sua moglie Mary 50 anni di matrimonio architetto anche lei è una sera che eravamo noi tre a casa sua in campagna a Sarzana in collina lui era un uomo che era stato bellissimo faceva anche modello alto bello come un attore americano era ancora bello da vecchio era di una di un fascino incredibile ed era uno straordinario bevitore lui non beveva goccetti lui beveva fiaschi da due litri e una volta l'aveva finito quella sera lì si è alzato per prendere un altro e alzandosi ha dato le spalle alla sua signora da 50 anni e gli ho sentito dire scusami Maria un'ora dopo davanti al fuoco c'è qualcosa che non torna gli dico che cosa tu un'ora fa ti sei scusato con tua moglie solo perché gli hai voltato le spalle noi che siamo più semplici non lo facciamo al secondo weekend tu sei una persona straordinaria squisita di una sensibilità pazzesca come è potuto accadere tu sei nato nel luogo più terribile che l'umanità abbia mai potuto progettare costruire un lager nazista tu avevi 16 17 anni e ci sei stato dentro quasi due anni e il tuo amico non è più tornato e tu si com'è possibile tu mi hai raccontato oggi pomeriggio di quella notte in cui tu e il tuo amico siete stati svegliati perché era arrivato un treno da chissà dove pieno di corpi di bambini tutti morti e avete lavorato con le vostre mani fino a mezzogiorno ad accattastarli sulla banchina tutti quei bimbi e sei stato tu che mi dici che ogni volta che provi a chiudere gli occhi la notte ti torna quel film quel ricordo com'è è potuto accadere ti hanno instillato l'odio ti hanno insegnato l'odio com'è non è potuto essere venuto su così a lui dice oh non ci ho mai pensato questa cosa qua è vera sai è vero vero e si tira su la manica quella che ha il tatuaggio è vero mi hanno instillato l'odio c'è ragione oh ma non mi ha preso ecco ecco il senso del coraggio io sono solo nudo davanti ad un esercito armato potete schiacciarmi come un insetto ma non divento come voi non diventerò un nazista non ucciderò i bambini io sono un poeta ecco cosa dobbiamo insegnare i bambini che esistono delle persone che ci hanno insegnato a vivere siamo soli a volte pensiamo che davanti a noi ci siano degli eserciti non è una buona ragione per cambiare idea per allearci con un patto faustiano con chi non la pensa come te non è una buona ragione rimanere se stessi continuare a dire parlare scrivere come si pensa di dover fare e credo che ci voglia un po' di coraggio forse ci vuole anche un po' di coraggio scrivere un libro sul coraggio grazie a tutti grazie a tutti benissimo benissimo c'è tempo per una domanda una soltanto c'è qualcuno prego lo dica urli c'è una ragazza che si è propinqua prego ci avete un gelato eccola prego buonasera a lei sarò breve lei ha detto che ci siamo innamorati della comodità e allo stesso tempo abbiamo smesso di parlare è forse perché ad oggi è scomodo parlare o perché non abbiamo più coraggio di fare le cose che sentiamo vorrei chiederle come possiamo trovare il coraggio di pensare a volerci un po' più bene bella domanda ma intanto tu hai diritto ad avere degli esempi davanti a te hai diritto ad avere degli esempi perché la storia va avanti con gli esempi sto parlando di esempi positivi anche negativi servono entrambi tu devi trovare la tua strada il tuo giudizio ma se non c'è nessuno davanti a te sarà difficile che tu possa trovare la tua strada il tuo giudizio io credo che queste cose organizzate dovete ringraziare chi organizza queste cose perché sono dei momenti di ginnastica in cui smettiamo di fare quello che facciamo per 12 13 14 ore al giorno un attimo siamo qua assieme non sei sola in questo momento magari tra un'ora lo sarai che non vuol dire essere sola socialmente sentirti sola sto dicendo quindi ognuno di noi si sente solo in qualche modo io ho bisogno di voi ragazzi per esempio perché mi date molta forza mi date senso alle cose che faccio però credo che altrettanto voi abbiate bisogno di persone che non siano più giovani e che si che si lasciano giocare capisci credo che sia bello pensare che esista una vita che ha una sua leggerezza e una sua dannazione non sono contraddizioni leggerezza non vuol dire superficialità e dannazione non vuol dire diventare un dinamitardo la leggerezza vuol dire guardare avere un occhio lieve sulle cose sorridere delle cose alzarsi alla mattina avere qualcosa da fare di bello e la dannazione ti serve anche a capire che non devi fare sempre la stessa cosa ma devi stupirti stupisciti è una cosa bellissima guardati allo specchio e dire ho fatto una cosa appuntala scrivila non demordere non ti stancare sai la passione ha un grande vantaggio enorme non ti fa sentire la fatica questa è la cosa più bella della passione se sei appassionato non sentirai mai fatica se la perdi anche andare da foligno a todi diventa faticoso capisci io ho molti anni eppure faccio tutti questi chilometri ma non li sento perché penso che ci sia un senso nelle cose che faccio e comunque la mia passione non mi fa sentire i chilometri è una cosa bellissima sai due mesi fa è morto il mio grande amico che era un fotografo si chiamava Romano Cagnoni è stato uno dei più grandi fotoreporter di guerra italiani un uomo stupefacente lo avevo rivisto qualche anno fa la Pietra Santa lui era di lì era tornato da Londra abbiamo lavorato in Londra tanti anni fa assieme era tornato a Pietra Santa e l'avevo chiamato era tanto che non ci vedevamo lui mi ha detto cosa fai tra un'ora dicono non lo so tu cosa fai e ci vediamo davanti a un bicchier di vino dicono vedo che non sei cambiato tanto e allora ci siamo trovati nella piazza di Pietra Santa sai una piazza che scende un po' così un po' io ero arrivato un po' prima lo vedo venire giù come un grillo con tutti questi giacconi da cosa che bello e si è seduto gli ho detto Romano ma già all'epoca a Londra non eri un ragazzino ma non sei cambiato mai ma quanti quanti anni hai a lui ho detto beh questa è una domanda che non mi dovevi fare eh no? no e quale ti dovevo fare? quello che mi avrebbe fatto Indiana Jones e cosa ti avrebbe chiesto Indiana Jones quanti chilometri hai fatto vecchio mio? grazie 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 grazie